Adesso sai cosa succede? Ma perché di ignoranza ce n'è tanta? Adesso, nel caso, secondo me, esce qualche interista, anche, ma se non esce qualche interista, ma tu, ma metti in caso che i nostri sono stati tranquilli, se non esce qualche interista, sai come si dicono? Sai cosa dicono? Ignoranti, gli ignoranti, sai cosa dicono? Eppera, eppera, corona interista, così diranno, così, così diranno, fidati. Fidati, tanto qualche interista c'è anche. Qui si parla di, allora, si sta parlando non solo di calciattorini, si sta parlando anche di società. Attenzione, attenzione, perché qui, altro che calciopoli, qui sta crollando tutto l'intero sistema Serie A, legato ai soldi, alle scommesse. E allora dove? E allora che? In che modo finisce tutto? In questo modo finisce tutto. E che ben venga, che ben venga, che si dissolva tutto. Quale campionato seguiamo? Vediamo, quale campionato seguiamo? Spagnolo no, inglese nemmeno. Che cazzo seguiamo? Quale campionato? Americano? Tanto il nostro... Si chiude, no, si chiude, si chiude baracca qui, via. Quale seguiamo? Il campionato olandese, il campionato olandese seguiamo. Che cazzo, 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 che cazzo.